Mi sento onorato. Una grande signora, esclamai. Mi sento onorato di fare un libro con lei. In caso è una persona preparata nella tua stessa materia, disse la mia compagna. Che c'entra, signora? È anche una gran signora, dissi. È non a caso. Che vuoi dire? Non a caso quella donna è nata nella stessa famiglia di un grande medium. Non a caso è stata sua sorella. E non a caso ha studiato e raccolto per tutta la vita l'insegnamento che le guide immateriali hanno trasmesso attraverso il fratello. Non capisco perché una gran signora, insiste la mia compagna. Perché quella donna, essendo tale, ha una grande coscienza.